Noi ci sentiamo di dire che una direzione più collegiale sarebbe auspicabile, ma del resto è anche nelle cose. Vedete che alcuni passi in questo senso sono già stati fatti, i facilitatori sia regionali che nazionali, il team del futuro, quindi come dire, un'esigenza che è condivisa. Speriamo che abbia una forma che sia la migliore possibile. Noi vorremmo in qualche modo approcciarci agli stati generali con delle proposte costruttive e arrivare già pronti con delle architetture già condivise. Ma di mai ha fallito, secondo lei, il capo politico? No, assolutamente. Anzi, questo ci tengo a dirlo. Ho visto alcune interpretazioni giornalistiche sul significato di questo discorso, di questa cosa che illustreremo stasera, queste richieste, di queste proposte, che sono completamente interpretazioni fuori tema. Cioè, noi non diciamo che Di Maio o che qualcuno può essere meglio di Di Maio. Di Maio ha fatto un lavoro eccellente, con uno spirito di servizio incomiabile, si è preso carico di tantissime responsabilità e non ritengo che ci sia qualcuno che possa fare questo lavoro meglio di lui. Il punto è proprio che un organismo di vertice è peggio che un collettivo. Poi, ovviamente, si possono anche abbinare queste cose, come dire, un coordinatore, poi anche la legge prevede che ci sia un capo politico e quindi, come dire, una forma di rappresentante del gruppo ci deve essere, però che ci sia una decisione collegiale. Diciamo, l'esigenza è quella di una maggior collegialità in tutte le decisioni, nella vita del movimento, diciamo, a livello centrale. Le forme possono essere tante, quindi questa può essere anche una di quelle. Ma non è l'unico tema che noi affrontiamo, c'è anche lo strumento Rousseau, che è comunque uno strumento ottimo, eccezionale, ha dato vita alla possibilità della democrazia diretta. Ci possono essere dei miglioramenti e quindi è giusto che noi portiamo la nostra esperienza diretta per provare a modificarlo. Non è ovviamente questa la sede, non è che chiediamo un voto qua, perché per realizzare queste modifiche che noi abbiamo in mente ci vogliono delle modifiche sia dei regolamenti dei gruppi, sia dello statuto. Ovviamente ci sono delle modalità preposte, previste, che sono la congiunta. Però questo è il posto giusto per parlarne, per iniziare a parlarne. Grazie.